Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale Torrette, mercogliano, Avellino. I pazienti oncologici lamentano che da qualche settimana sono costretti a subire per la somministrazione dei farmaci lunghi attese causate dal lasso di tempo che intercorre tra il prelievo di sangue per l'emocromo ed il risultato delle analisi. La grave denuncia arriva da cittadinanza attiva Riano Irpino. La coordinatrice dell'Assemblea Territoriale, la dottoressa Cristina D'Amico, precisa da quanto riferito, ci l'inconveniente sembra dovuto alla carenza di personali o più verosimilmente ad una non idonea organizzazione della prestazione. Al fine di alleviare le sofferenze ai pazienti, i disagi ai familiari che li accompagnano, si chiede di conoscere quali provvedimenti saranno adottati. L'appello viene rivolto al direttore generale dell'ASL, Maria Morgante. A distanza di poche ore ci imbattiamo in un altro grave disagio che ha a che fare con le attese. Proprio come denunciato ieri sera nel corso della nostra trasmissione RAID con la signora Giovanna Boccella, operata cinque anni fa di tumore all'ovaie, è costritta a recarsi fuori regione. Dopo che mi è stato diagnosticato, alla città ospedaliere mi è stato detto di attendere due mesi e mezzo, premesso che era un quarto stadio. Dunque due mesi e mezzo penso che nessun paziente in quelle condizioni sarebbe vissuto, se non che il giorno dopo sono andata a San Giovanni Rotondo e lì, senza né prenotazioni né raccomandazioni nulla, mi hanno presa in considerazione e dopo 15 giorni ero operata. E a tutt'oggi sto continuando a fare le mie cure a San Giovanni Rotondo. Questo purtroppo per le nostre zone è un disagio grosso, perché effettivamente spostarsi, fare due ore e mezzo di viaggio andato e ritorno in una fase di malattia grave come la mia, come quella di tanti, è molto molto disagiato sia per il paziente che per i familiari, in pratica. Le attese per qualunque motivo da parte di malati oncologici non sono tollerabili. Non sarà la prima cosa a cui si pensa quando ci si trova di fronte ad una diagnosi importante come quella di un tumore, ma ben presto il pensiero si fa pressante per il malato e per i familiari chiamati ad accudirlo che dopo una tremenda diagnosi devono imbattersi anche con delle mancanze da parte delle istituzioni.